Volteggio, Alice D'Amato chiuderà la seconda sfida al volteggio Favorita in questa sfida tre, rondata a flick, doppio avvitamento, ha messo le mani quasi fuori dal tappetino Non so se riusciamo a rivederlo con la rincorsa ma probabilmente è arrivata molto lunga nella rincorsa, ha messo le mani quasi fuori dal tappetino Ho temuto per un attimo, da questa inquadratura purtroppo non riusciamo a vederlo, un ottimo salto